Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando ovviamente dell'emergenza sanitaria, dei numeri dell'emergenza sanitaria perché sono 395 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo su poco più di 3.000 test analizzati, percentuale dunque che sfiora il 13%, anche 7 nuovi decessi che fanno salire il computo complessivo a quota 584. Quasi 400, 395 per la precisione i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo di età compresa tra i due mesi e i 93 anni, a risponso di 3.067 test analizzati pari dunque al 12,87 del totale dei tamponi analizzati. Dei nuovi casi 204 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti, un ulteriore e sostanziale aumento dunque che fa salire complessivamente a 13.505 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore di 4 unità in quanto sono stati eliminati altrettanti casi e risultati duplicati o già in carico ad altra regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Inoltre si registrano anche 7 nuove vittime e questo balzo fa salire il computo complessivo a 584, di età compresa tra i 63 e 92 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.340 tra dimessi e guariti più 67 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 8.581 più 317 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 308.505 test. 468 pazienti più 10 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 42 più 6 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 8.071 più 301 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 3.939 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila più 143, 2.582 in provincia di Chieti più 86, 3.135 in provincia di Pescara più 59, 3.564 in provincia di Teramo più 101, 95 fuori regione più 12 e 190 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel pomeriggio è stata inaugurata al Sampio di Vasto la nuova TAC che sarà dedicata al percorso Covid. Presenti il presidente della regione Marco Marsiglio e l'assessore alla sanità Nicoletta Verì che hanno parlato anche dell'andamento della curva epidemiologica nella nostra regione. Servirà nell'immediato per il percorso Covid dando la possibilità di fare una diagnostica veloce con uno strumento modernissimo, molto evoluto che sostituisce una macchina che stava qui da quasi 15 anni e che valeva come potenza diagnostica 10 volte di meno, insieme a uno strumento che già nei mesi scorsi è stato installato, un'altra TAC un po' meno evoluta di questa che ha già consentito di raddoppiare la capacità diagnostica di questo presidio. Questa nuova TAC consentirà un potenziamento strutturale, quindi sperando che la Covid passi il prima possibile, questo strumento permetterà comunque un potenziamento importante della radiologia, della diagnostica di questo presidio che come sapete non si rivolge soltanto all'utenza abruzzese, ma attira anche molta utenza dal Basso Molise. Attendiamo a breve di portare sul tavolo dei Ministeri Vigilanti la rete ospedaliera, con l'approvazione della rete ospedaliera partono concretamente l'accordo di programma che mette a disposizione i fondi, i fondi sono in questo momento fermi al Ministero, l'individuazione della località dove deve sorgere l'ospedale è stata già fatta da tempo dalle amministrazioni competenti, quindi andremo avanti e andremo avanti in maniera spedita non appena avremo l'approvazione della rete ospedaliera. Questo ospedale rientra in quelle strutture che prenderanno i fondi per la riorganizzazione e la riconversione del pronto soccorso affinché ci sia un percorso differenziato, cosiddetto sporco pulito. Il direttore e tutta l'equip ha organizzato in base alla rimodulazione dei posti letto che noi dobbiamo mettere in atto in base alla curva epidemiologica, siamo pronti ad affrontare in base alle criticità che emergono giornalmente. C'è un cronoprogramma organizzato dall'azienda che dà delle risposte a seconda dei casi che hanno bisogno o di terapia intensiva o subintensiva o di degenza per gli infettivi. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI, chiede alla regione Abruzzo un'ordinanza specifica sui tamponi rapidi nelle scuole e sull'impiego dei laboratori privati. Intanto l'ASL Teramana sta predisponendo un protocollo da sottoporre all'ufficio scolastico provinciale che agirà in autonomia sulla didattica a distanza in caso di positività nelle classi. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, al termine della riunione dell'organismo si è fatto portavoce delle richieste avanzate dai primi cittadini in questo momento di estrema difficoltà. Per prima cosa è stata unanimamente ribadita la responsabilità che i sindaci devono assumere in maniera condivisa, al di là di schieramenti e posizioni, davanti a un aumento del contagio da coronavirus che il sistema sanitario sta affrontando con affanno. Sarà necessario gestire dunque la fase attuale con grande spirito di collaborazione e cooperazione, in sintonia con l'ASL Teramana. Abbiamo poi condiviso la richiesta, da me già avanzata alla Regione nella veste di presidente del Lanci, dichiara in una nota d'Alberto, di fare chiarezza sulla situazione dei tamponi effettuati nei laboratori privati. Dopo aver rappresentato lo stato delle cose, ho ottenuto piena condivisione sulla richiesta di convocazione urgente di un tavolo scolastico regionale. Questo perché tutti i sindaci hanno riconosciuto lo stato di difficoltà in cui versa soprattutto il sistema della scuola. Da qui la richiesta di tamponi rapidi per il personale scolastico e di messa a sistema dei laboratori privati. Per Dalberto è indispensabile che la Regione emani un'apposita ordinanza. Inoltre è stata definita, insieme all'ASL di Teramo, che ha partecipato all'incontro con i sindaci, l'importanza di mettere le dirigenti scolastiche in condizioni di esercitare appieno le proprie funzioni e quindi di assumere in autonomia la decisione di attivare la didattica a distanza, qualora in una classe dovesse riscontrarsi un caso di positività. A questo scopo la stessa ASL predisporrà in tempi brevissimi un protocollo che sarà sottoposto all'ufficio scolastico provinciale. I capigruppo di centrodestra in Consiglio regionale plaudono alle decisioni prese dalla Giunta sul Curabruzzo con 100 milioni stanziati anche a fondo perduto. Oggi in conferenza stampa i capigruppo della maggioranza hanno tenuto a ribadire quello che è stato fatto anche nella giornata di ieri in Consiglio, ma anche negli ultimi mesi, Curabruzzo 1, Curabruzzo 2, tanti soldi per i cittadini abruzzesi nel momento della pandemia. Sì, risposte per quel che possiamo dare per una regione che chiaramente a differenza del Governo nazionale non può agire in deficit, mentre il Governo può agire. Abbiamo messo in gambo tutto perché abbiamo rinegoziato tutto ciò che era da rinegoziare, fondi nazionali, fondi europei, Masterplan, quindi abbiamo rinegoziato tutto così come peraltro il Governo ci aveva chiesto. A oggi abbiamo fatto Curabruzzo 1 e Curabruzzo 2, immesso nell'economia regionale qualcosa come 100 milioni di Euro, ma ne arriveranno tanti altri per un sistema economico che ha necessità di mantenersi e soprattutto dobbiamo cercare di mantenerlo intatto perché dobbiamo pensare che dopo la peste c'è il risorgimento come scriveva Dante e quindi dobbiamo pensare anche al futuro. Lei in conferenza stampa Testa ha sottolineato che in questo momento non dovrebbero esserci polemiche. Ma io non appartengo a quelli che vanno dietro le polemiche, io voglio vedere e lavorare ogni giorno per il futuro dell'Abruzzo, ieri è stata una giornata realizzativa e importante, abbiamo destinato ulteriori milioni per le imprese, per il mondo del sociale, per il mondo delle infrastrutture, pensiamo agli 800 mila Euro per l'aeroporto di Abruzzo, pensiamo ai 190 mila Euro per i centri diurni di Teramo e l'Aquila, pensiamo ai 6 milioni di Euro per le imprese in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per le domande a fondo perduto, pensiamo ai 700 mila Euro stanziati per la categoria dei fotografi, una categoria che è stata abbandonata totalmente dal Governo nazionale. Sant'Angelo, voi oggi in conferenza stampa avete ribadito la bontà del lavoro portato avanti dalla maggioranza della giunta regionale anche per quanto riguarda l'operazione Napoli Calcio quest'estate a Castel di Sangro? Beh, allora, il Napoli Calcio rientra in un'operazione di marketing e di valorizzazione del territorio, considerate che il territorio dell'Alto Sangro è un territorio che vive prettamente d'inverno, abbiamo fatto un'inversione di turismo, che c'è stato anche un forte turismo per la stagionalità estiva. Diciamo che è un'azione di marketing, il Napoli su tutte le testate giornalistiche sportive risulta essere la quinta squadra italiana con milioni di tifosi, quindi dare questo contributo, questa pubblicità attraverso il Napoli Calcio secondo noi è un investimento che ci proietta per il futuro, non per l'oggi, per una dimensione di internalizzazione della nostra regione. Quindi se da un lato con il fondo perduto che abbiamo anche lì implementato fino a 50 milioni di Euro e daremo ristoro a 34 mila aziende abruzzesi, da un lato sosteniamo del reddito, dall'altro stiamo programmando anche lo sviluppo per rispondere in prospettiva futura a questa crisi economica. La regione è in forte ritardo sugli adempimenti riguardanti il cura Abruzzo 1 e 2, lo sostengono i consiglieri regionali di centro-sinistra che esprimono preoccupazione invitando l'esecutivo ad agire. Sono passati otto mesi dalla prima emergenza sanitaria con l'erogazione di briciole rispetto al fabbisogno reale, stanziati 22 milioni sul totale di 147 milioni previsti dal cura Abruzzo 1 e 2. È forte la denuncia dei consiglieri regionali del centro-sinistra sul lavoro portato avanti dalla giunta dall'inizio della pandemia. L'ultima delibera di rimodulazione di questi fondi è addirittura del 27 ottobre. Serve adesso la delibera di giunta, poi l'inizio dell'avviso pubblico, poi la scadenza dell'avviso, poi l'istruttoria e poi l'erogazione. Insomma, sono conti abbastanza matematici ed oggettivi. Assieme a questo ci sono tantissimi enti che sono in attesa. Poi vi ricordate la polemica dei comuni abruzzesi, soprattutto quelli di centro-destra, contro il Ministero e il Governo che non avevano stanziato fondi per i comuni della zona rossa del nostro Abruzzo. Bene, lavoro dei parlamentari abruzzesi, quei fondi sono arrivati, sono previsti, 426 mila Euro per esempio per il Comune di Penne e i fondi invece che sono stanziati per le zone nostre nelle nostre leggi regionali? Assolutamente no. Dei 200 mila Euro si è persa traccia, del milione e 260 mila Euro che come centro-sinistra abbiamo fortemente voluto per le micro e medie imprese delle zone rosse assolutamente si è persa traccia. Si è persa traccia i ricontributi per gli asili. Un ritardo definito inaccettabile dei consiglieri di centro-sinistra che ricade sulle spalle degli abruzzesi e delle aziende della nostra regione. Ci sono ritardi dovuti alla burocrazia ma anche all'incapacità di questo Governo regionale di trasformare le promesse in fatti, tant'è solo il 15% di risorse che loro hanno impegnato con le due leggi Cura Abruzzo 1 e 2 sono arrivate nei conti correnti delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Tanti stanno attendendo ma sono passati purtroppo mesi, loro per mesi hanno lavorato solo per il Napoli Calcio, per le guerre interne alla maggioranza, il rimpasto di giunto, la cacciata di due assessori, l'aumento degli stipendi dei dirigenti regionali e dei manager delle altre. Mentre ci sono famiglie, imprese, lavoratori in difficoltà che attendono risposte puntuali da parte di questa giunta che purtroppo è lenta e inefficiente. Cronaca, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un tragico incidente stradale accaduto a Marina di Città Sant'Angelo dove il giovane alla guida di un'auto si è scontrato frontalmente con un furgone. L'impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo, non ha lasciato scampo al ragazzo che è morto praticamente sul colpo. Immediati soccorsi anche con l'arrivo dell'elicottero del 118 ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare, i sanitari ne hanno potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. La morte è arrivata per arresto cardiocircolatorio a seguito delle lesioni riportate nel scontro violento. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri. E' stato pubblicato lo studio di un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio riguardo la presenza del virus sugli autobus. Secondo i risultati le misure anticontagio sarebbero efficaci. Le misure anticontagio sui mezzi pubblici funzionano. A dirlo è lo studio di un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Durante 10 giorni di monitoraggio sugli autobus della panoramica di Chieti non è stata riscontrata alcuna traccia di Covid. I campioni dell'aria e delle superfici a bordo dei mezzi sono stati analizzati dal laboratorio universitario di genetica molecolare, utilizzando le stesse tecniche con cui vengono valutati i tamponi e non hanno dato riscontro della presenza del virus. Lo studio si è svolto dal 12 al 22 maggio, quando l'Abruzzo era la quinta regione italiana per tasso di mortalità da Covid, con una percentuale che si attestava intorno al 12%. Durante le osservazioni però non è stato possibile testare tutti i circa 1.100 passeggeri saliti a bordo, quindi i ricercatori non sanno dire quanti positivi abbiano effettivamente usufruito dei mezzi pubblici. Secondo un recente studio basato sui numeri di Cina, Italia, Stati Uniti e Grecia, la percentuale degli asintomatici tra i positivi si attesterebbe tra il 40 e il 45%, considerando allora un 30% di asintomatici tra i 123 passeggeri che in media hanno viaggiato su ogni autobus, lo studio stima che siano saliti a bordo 37 positivi. Ciò però non è bastato a far rilevare il Covid né nei campioni dell'aria né sulle superfici più frequentemente toccate dai passeggeri. Questi risultati, commenta Piero Di Carlo, il professore a capo dello studio, suggeriscono che la riduzione del numero dei passeggeri, l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani e l'areggiamento sono misure efficaci per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 nel trasporto pubblico. E con l'ordinanza regionale 98 firmata ieri pomeriggio, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dimezzato il numero dei passeggeri sugli autobus, potrà salire a bordo il 50% della capienza indicata sulla carta di circolazione e stabilisce inoltre interventi straordinari di sanificazione dei mezzi. L'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, medico pneumologo, invoca l'utilizzo di medici specializzanti per uno screening a tappeto con test rapidi anti-Covid su tutta la popolazione. Aumentano i contagi in Abruzzo e in particolare nella provincia dell'Aquila. Secondo l'ex sindaco del capoluogo abruzzese Massimo Cialente, medico specialista in pneumologia e in medicina del lavoro, il contrasto al Covid sul territorio si può fare in due modi. Uno, le usca. Noi abbiamo avuto le usca 4 medici qua sull'Aquilano, 4 medici o 3 sulla Marsica. Quelli della Marsica lavorano molto, sono bravi, ma non fai il tempo di andare alle case perché devi fare il tampone e in più devi visitare. Ogni invisa vuol dire mettere lo scafandro, quindi è complicato. Allora tu se vuoi fare pressing a questo avversario devi avere tante usca, si tratta di pagare, ma che stai a pensare adesso a pareggiare il bilancio e l'Asda? Poi la cosa più importante è il tracciamento. Perché saltare il meccanismo? Primo, ti faccio il tampone in ritardo rispetto alla comparsa dei sintomi perché l'usca va in ritardo. Secondo, se faccio il tampone e l'Asda lo manda a Pescara, il 2 novembre sono arrivati i tamponi del 23 ottobre, quindi io che sto a casa dal 23 ottobre con la mia famiglia, la mia famiglia a quel punto non sa se può uscire, sulla carta possono uscire. Avete capito com'è saltato il meccanismo? Il numero verde ha 3 mila numeri in coda, l'epidemia che è scoppiata soprattutto i giorni delle famose due feste dell'Octoberfest, nella Marsica girava ed è poi entrato al Donorione, che vuole dire tutto un mondo che gira intorno al Donorione e ci abbiamo gli ospedali che non sono pronti. Noi stiamo curando gente che sulle linee, rispetto alle linee guida dovrebbe essere ricoverata, che viene curata a casa, sperando che vada bene all'ospedale, non ha più posti. La mia preoccupazione però adesso è questa, noi stiamo andando alla forma di lockdown, ammettiamo che adesso funzioni, ma poi ci sarà di nuovo un'ondata. L'unico modo è quello di provare a fare, ad esempio obbligando immuni, io non ti faccio entrare, se tu non hai immuni, tu dentro la discoteca non entri, al ristorante non entri. Adesso la mia paura, dicevo, è di fare un stop and go, facciamo il lockdown, perché a Milano di fatto è quasi un lockdown, riscendono i contagi, riapri un pochettino, risalgono i contagi, richiudi. Allora si deve cominciare a fare il meccanismo del tracciamento, abbiamo migliaia di giovani medici specializzanti o che non sono manco entrati nella specializzazione, li mettiamo, prendiamo un chiosco, lo svuotiamo, lo requisiamo e ti metti a fare i test rapidi che sono meno sensibili, ma ti permettono di fare uno screening. Un finanziamento regionale all'aeroporto d'Abruzzo per far fronte alle perdite causate dal Covid. Lo scalo abruzzese, però, dice il presidente della Saga, Enrico Paolini, ha retto meglio degli altri aeroporti italiani. 800.000 euro all'aeroporto d'Abruzzo, questi fondi stanziati dalla regione per favorire la ripresa dei traffici aerei. Il finanziamento sarà volto al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali dall'Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali. Entro il 15 novembre la Saga, società abruzzese gestione aeroporto, pubblicherà un apposito bando di gara, individuando le rotte, la frequenza dei voli, i volumi dei passeggeri attesi e i tempi di erogazione dei fondi. Con le limitazioni agli spostamenti causa pandemia, tutti gli aeroporti da nord a sud della penisola hanno subito un crollo del numero dei passeggeri. In quello abruzzese, se da gennaio ad ottobre 2019 erano transitate oltre 600.000 persone, quest'anno ne sono state solo 160.000, 440.000 in meno, per una vertiginosa perdita del 72%. Ma negli altri scali italiani, da quelli più grandi a quelli più piccoli, sottolinea il presidente della Saga, Enrico Paolini, la perdita è stata di circa l'80%. Se il trend verrà confermato, conclude Paolini, a fine anno arriveremo a perdite di poco più di 500.000 passeggeri. E la Saga chiede ulteriori risorse per il rilancio dello scalo abruzzese, un vero e proprio recovery plan, un piano straordinario della durata di due anni che dovrebbe rappresentare la svolta del dopo pandemia. La proposta sarà inoltrata al socio della Saga, ovvero la regione Abruzzo. Vaccini introvabili, ritardi nell'effettuazione dei tamponi. La denuncia arriva dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ed ex Assessore alla Sanità Silvio Paolucci. Una gestione dell'emergenza Covid insufficiente e lacunosa. La denuncia del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che imputa alla Giunta regionale e all'Assessorato alla Sanità ritardi, sia sul fronte dell'effettuazione di tamponi che sulla vaccinazione antinfluenzale. Dopo la conferenza stampa che noi abbiamo svolto a luglio, la legge fu approvata ad aprile e maggio, cura Abruzzo 1 e 2, questi erano i conti relativi alla conferenza stampa di tre mesi fa, nulla è cambiato. Sono rimasti dei 147 milioni propagandati a più riprese e da un anno appena 22 milioni sono le risorse erogate e sono state impegnate 40 milioni di risorse a fronte di 65 di cui non vi è alcuna traccia neanche a livello degli impegni. In tutto questo denunciamo peraltro il gravissimo ritardo con il quale questa regione e questo governo regionale stanno affrontando la dinamica della spesa dei fondi europei. Quest'altra immagine che si può, che sintetizza purtroppo i dati in nostro possesso è ricavabile dal Ministero, quindi dove ci sono le risultanze di tutte le regioni, noi abbiamo impegnato sull'FSE e sul FES 30 milioni di 110 e 61 di 210, siamo l'ultima o tra le ultime regioni d'Italia. Questo governo regionale è nel pallone, è impegnato da 8 mesi a portare avanti una legge debito fuori bilancio per il Napoli che vale 14 milioni di Euro per i prossimi 11 anni e siamo ultimi su tutte le loro promesse che avevano portato avanti in questa annualità. Hanno persino azzerato le risorse del masterplan così come abbiamo denunciato e dopo averci chiesto pazienza ad aprile a maggio di far passare questi provvedimenti per l'emergenza un anno non ne hanno impegnato e non hanno soprattutto erogato a cittadini, imprese e famiglie alcuna risorsa sostanziale. Oggi c'è stato un altro caso per il quale di fronte a un pronto soccorso c'è stato un altro decesso, siamo al terzo decesso in pochi giorni, perché non c'è la governance? Perché quando arrivano bisogna prima fare i tamponi, attendere i risultati e la gente aspetta fuori, così come tante altre famiglie non riescono a farsi i tamponi presso i drive-in, presso le strutture sanitarie. Una domanda, ma c'è qualche bambino anziano che riesce a farsi in Abruzzo il vaccino per l'influenza? No, questa è la grandissima purtroppo rilevanza del tema che stiamo toccando, ci si viene a raccontare in ciascuna commissione quella ovviamente sanità, che è tutto in ordine, che tutto è a posto, dopodiché Marsilio il 31 ottobre denuncia che l'Abruzzo è sotto controllo e il 1 novembre smentendo se stesso ci racconta che invece gli ospedali sono saturi, è davvero scandaloso quello che sta avvenendo. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B e dalla Pescara mentre proseguono i rumors sulla trattativa per la cessione societaria e la Pescara è al primo bivio di questa stagione, domenica infatti riceverà la bestia nera Cittadella per il tecnico bianco-azzurro Massimo Oddo, c'è in ballo la permanenza o meno sulla panchina contro la squadra Veneta urge invertire la rotta. Meno due giorni alla gara della verità, Pescara-Cittadella è un match spartiacque per il Delfino e in particolare per Massimo Oddo. La necessità è quella di invertire la rotta al più presto per lasciarsi alle spalle una delle più brutte partenze di campionato della storia del Pescara. Massimo Oddo è più che mai sotto i riflettori perché un'altra prova negativa ne comporterebbe l'esonero. Beppi Pilon è alla finestra in attesa di eventi e il tecnico di Preganzioli è il principale indiziato per un eventuale avvicendamento. Oddo e il Delfino si giocano tanto contro quella che è la bestia nera dei bianco-azzurri che in generale non battono il Cittadella dal 2013 all'Adriatico, dal 2011 e che negli ultimi sei precedenti ha raccolto altrettante sconfitte. Eppure queste statistiche sono le cose che preoccupano di meno. Quel che è più da temere è che il Cittadella è una squadra forte che ha sì i suoi pilastri di lunga data, Iori è il principale riferimento ma che ogni anno riesce a valorizzare in poco tempo nuove risorse quando altre vanno via. Venturato quest'anno ad esempio ha perso Dio ma si sono già messi in evidenza giocatori arrivati dalla C come l'attaccante italo-nigeriano Obunseye compagno di squadra di Seter nell'Olbia il centrocampista Pavan, ex Renate il centravanti italo-cameronense Shaju dalla primavera del Milan. Inizio di campionato molto positivo nonostante la prima immeritata sconfitta di sabato scorso contro il Monza dieci punti nelle prime cinque partite e un match da recuperare, quello con la Reggiana insomma una squadra da parti alte della classifica da valutare se ci saranno il tecnico Venturato e l'esterno Donnarumma risultati positivi al Covid una settimana fa i test rapidi dello scorso lunedì sono risultati negativi per tutto il gruppo e anche per loro ed ora si attendono responsi dai tamponi molecolari in casa Pescara c'è attesa per capire quali saranno le mosse di Massimo Oddo dopo le esclusioni eccellenti di Lecce ufficialmente motivate da problemi fisici e la necessità di riguadagnare la migliore condizione assente Drudi sembra da escludere il recupero di Bocic e Bocchetti e alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Omeonga da valutare Riccardi Asensio lo spagnolo se ci sarà andrà al massimo in panchina mentre saranno a disposizione gli esclusi Val di Fiori e Galano la nota sorpresa di Via del Mare è stata Dejan Vokic il trequartista sloveno di proprietà del Benevento e la tentazione per il tecnico pescarese che potrebbe buttarlo nella mischia del primo minuto a supporto con Maestro dell'unica punta seter nel caso panchina per Galano per il resto l'impianto di gioco dovrebbe essere quello di Lecce con Oddo chiamato a decidere se fa ricorso a qualche senatore in più Scognamiglio, Memuschai, Bussellato, Val di Fiori o se proseguire con la linea verde direzione di gara affidata ad Alberto Santoro della sezione di Messina primo anno in B e senza precedenti con entrambe le squadre a proposito di arbitri nell'assemblea di ieri la Lega ha ufficialmente introdotto il VAR dalla prima giornata di ritorno di questo campionato ora inizieranno gli incontri con gli arbitri per la operatività soddisfatto di questa decisione il presidente Mauro Balata che ha lavorato per l'accelerazione del processo è una decisione epocale dice Balata che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner e a proposito del Cittadella la società Venet ha comunicato che in seguito ai tamponi effettuati mercoledì sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19 si tratta di due calciatori ed un dirigente Granata è stato prontamente allertato il Dipartimento di Prevenzione competente i tre positivi si trovano ora in isolamento il resto del gruppo squadra in isolamento fiduciario si è sottoposto quotidianamente si sottoporrà quotidianamente ad ulteriori test che fino a questo momento sono risultati tutti negativi scendiamo in Serie C adesso giornata di riposo quella odierna per il Teramo che domani riprenderà con una doppia seduta per iniziare a preparare il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo a Catanzaro gara inizialmente programmata alle 20.30 ma che è stata anticipata alle 17.30 il centrocampista Domenico Bungo torna sull'importante vittoria di Pagani e invita a non guardare i precedenti del diavolo al ceravolo dello scorso campionato a Catanzaro il Teramo proverà a prolungare questo magic moment di inizio stagione questa settimana un po' di meno delle altre partite però ho perso un po' tanti palloni poi abbiamo rivisto pure la partita ma l'avevo già rivista a casa e potevo fare molto di più in fase di possesso e oltre al gol secondo me la cosa principale è che in campi così difficili è portare la partita a casa e abbiamo lottato fino alla fine ce l'abbiamo fatta e secondo me è una gran vittoria perché era un campo molto difficile sicuramente venivamo da da tre partite in una settimana e magari la condizione è venuta un po' a mancare anche nel secondo tempo perché oltre a fare tre partite non so se si vedeva ma il campo era molto pesante e il mister ci aveva chiesto anche una cosa diversa c'è da fare in campo da non attaccarli subito ma di aspettarli un po' noi non pensiamo all'anno scorso dobbiamo pensare a quest'anno a quello che stiamo facendo quest'anno e come lo stiamo facendo poi è una partita come tutte le altre sono una grande squadra loro il campo è difficile però andremo lì a fare quello che stiamo facendo e continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché lo vogliamo fare nei migliori dei modi specialmente quando portiamo a casa una partita del genere ci sono sempre quelle cose ma non siamo stati bravi ad andare subito in esplatoi il mister Fabio ci hanno portato subito in esplatoi e non diciamo che non abbiamo fatto niente noi non siamo andati in esplatoi senza di niente ma non è successo nulla di che magari se la sono presi un po' con tutti noi ma noi come tutte le squadre penso quando una squadra vince debba esultare sicuramente quello che stiamo facendo è qualcosa di buono di molto molto buono e i tifosi è giusto che sogna e sogniamo pure noi poi l'ho detto pure due settimane fa noi dobbiamo pensare solo di di fare una partita alla volta come stiamo facendo e poi vedremo vedremo verso la fine dove siamo a che punto siamo e tireremo le somme ma adesso l'importante è pensare una partita alla volta e fare quello che stiamo facendo che punteremo a portare tantissimi punti a casa adesso in questo momento fisicamente secondo me degli altri e sono contento perché mi trovo in due grandi squadre sia Cosenza era uno squadrone e quest'anno siamo una buona ottima squadra guidata da un grande allenatore la Serie D ha deciso per lo stop al campionato che riprenderà regolarmente il 29 novembre le prossime domeniche saranno sfruttate per recuperare le tante partite rinviate a causa del covid della sosta del campionato e della prova della sua squadra contro l'area canatese ha parlato ai nostri microfoni il presidente del Pineto Silvio Brocco Presidente una buona prova da parte del Pineto siete calati negli ultimi 10 minuti come valutare questo 0-0 sicuramente una prestazione migliore delle precedenti io avevo un po' timore del secondo tempo però la squadra ha reagito bene mi è piaciuta anche se abbiamo incontrato una squadra molto molto forte ben attrezzata in ogni reparto però il Pineto ha giocato la sua partita bene sono soddisfatto ecco alla fine avete rischiato di perdere ma c'era probabilmente quel calcio di rigore che vi fa recriminare su Di Giovacchino beh che devo dire le partite di calcio vivono anche di episodi un grande applauso a Mercorelli perché il ragazzo ha avuto un istinto reattivo stupendo meraviglioso una parata da grande proprio da grande portiere e in rigore si a detta di tutti c'è stato il fallo su Di Giovacchino però l'arbitro era lì ha deciso così sono decisioni arbitrali che non possiamo non possiamo contestare ecco presidente ora si va incontro a questa sosta forzata come arriva il Pineto è soddisfatto di questo inizio di stagione ed è giusto insomma fermarsi soddisfatti saremo stati più soddisfatti con qualche punto in più però la nostra squadra è stata quasi rinnovata per tanti elementi ci aspettiamo che alla ripresa questi ragazzi possono dare il meglio di loro stessi come penso e credo che possono fare e questa sosta è giusta può avere delle conseguenze cosa pensa di questo stop che va profilandosi è un momento di caos a livello nazionale a livello di sanità abbiamo tanti contagi seppur portatori sani la maggior parte però il pericolo è verso le persone anziane le persone che già hanno altre patologie quindi dobbiamo fare un attimo di di attenzione fermarsi sicuramente è giusto fa riflettere e soprattutto dobbiamo avere l'andamento l'andamento di questa seconda ondata e purtroppo ci sono questioni e rinvii dei rinvii come per esempio quella del Giulianova che avrebbe dovuto recuperare domenica la gara contro la Cinzia al Balonga recupero della quinta giornata di campionato ebbene un caso di positività nel gruppo squadra ha fatto slittare questa partita a data da destinarsi e dunque non si giocherà Giulianova Cinzia al Balonga e verrà successivamente fissata fissata la data dell'ulteriore recupero e questa era l'ultima notizia per il nostro Tg vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma Youtube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social a me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione prossimo appuntamento con il nostro Tg alle ore 23 è tutto buona serata